A Vionews ha intervistato l'avvocato Perluigi Di Palma del Centro Studi Demetra che insieme alla fondazione 8 ottobre 2001 organizza la 63esima edizione del seminario annuale della sicurezza aerea internazionale. Dal 2 al 5 novembre a Milano presso l'hotel Marriott si svolgerà il 63esimo International Air Safety Seminar. Lei come rappresentante di Demetra quale pensa sia il ruolo dell'associazione all'interno del convegno? Il ruolo dell'associazione è stato importante nel senso che insieme alla fondazione 8 ottobre a Paolo Pettinaroli che è il presidente abbiamo curato l'edizione italiana. Normalmente questi convegni, queste sessioni della Fly Safety Foundation vengono garantite dai governi nazionali così è stato in Cina così è stato a Malta. Al contrario in Italia l'accreditamento è stato fatto tramite la fondazione 8 ottobre e da tempo il centro studi Demetra collabora con la fondazione 8 ottobre in attività culturali di settore. Quindi abbiamo accreditato e curato l'attività da un anno, parliamo con Bill Voss che è il capo della Fly Safety Foundation e chiaramente abbiamo garantito la realizzazione in Italia. È evidente che l'organizzazione rimane intestata alla Fly Safety Foundation ma il centro studi Demetra e la fondazione 8 ottobre sono i soggetti istituzionali italiani che hanno portato questa manifestazione tra noi. Sono diverse le associazioni internazionali presenti nei giorni del seminario. Secondo lei quali aspettative o proposte potrebbero uscire dalla convention? La proposta più importante che noi ci attendiamo per l'attività che il centro studi sta svolgendo in questi anni è la necessità, l'opportunità, il percorso che si deve fare per portare il controllo dal radar al satellitare. E quindi in particolare l'ENAV e Massimo Garbini che nel direttore parteciperà come relatore alla sessione più importante del Fly Safety Foundation. Chiaramente si parlerà del runway in caution, in particolare la relazione di Massimo Garbini ma chiaramente l'idea è che nel futuro il trasporto aereo sarà e solo se entra il controllo satellitare. Quindi è evidente che ci sono tutti gli enti di riferimento di questo settore del trasporto aereo ma la discussione in particolare va verso il futuro. Il futuro è il controllo satellitare della operatività del trasporto aereo. Quali sono i referenti istituzionali che parteciperanno al convegno? Chiaramente sia il centro studi che la fondazione 8 ottobre ha voluto chiaramente rendere istituzionale l'evento e quindi la partecipazione dei referenti istituzionali italiani sarà massiccia nelle giornate in cui si svolgeranno e nelle presentazioni delle giornate. Dal sindaco Morati al presidente Formigoni per parlare della regione Lombardia, al presidente Rigio, a Guido Pugliesi, al presidente Enrico Saggese, cioè tutti i soggetti istituzionali italiani che rappresentano sia da un punto di vista territoriale le attività del trasporto aereo. Basta pensare che l'Inate Malpensa sono il sistema aeroportuale che nel 2015 avrà un ruolo importante nell'Expo 2015 e così tutta la rete istituzionale di presidio del settore. Questo in relazione al fatto che il centro studi Demetra è da tempo impegnato in una discussione culturale strategica importante, cioè un'attività, una realizzazione di sistema di relazioni tra questi vari soggetti, ASI, ENAC, ENAV, Agenzia della Sicurezza al Volo, Aeroclub d'Italia, Cira, il centro di ricerca aerospaziale, che in qualche modo devono garantire il nostro Paese in questa attività futura, in questo presidio istituzionale necessario per sviluppare evidentemente questa nuova e diversa capacità operativa legata al trasporto aereo con il controllo satellitare.